Due buone notizie per due dei luoghi simbolo dell'architettura dell'acropoli o Gubina. La prima arriva da Palazzo Ducale. Il progetto Lo Studiolo di Gubbio, tour virtuale e ipotesi ricostruttive di un microcosmo umanistico, elaborato da una commissione di qualificati esperti, è stato infatti selezionato per la fase finale della non-edizione del Premio Nazionale Cultura di Gestione bandito da FederCulture, AGIS, Alleanza Cooperativa Italiana e Turismo e Benni Culturali e Forum del Terzo Settore. Un riconoscimento importante che si aggiunge all'usinghieri riscontri anche di affluenza che Palazzo Ducale, la gestione guidata da Paola Mercurelli Salari, ha registrato nel 2018. Quella del tour virtuale è un'iniziativa volta a individuare e valorizzare i progetti e modelli più innovativi nella gestione culturale che ha ricevuto, tra l'altro, il patrocinio del Ministero Beni Culturali e del Lanci. I vincitori saranno decretati da una giuria composta dai rappresentanti del Comitato Promotore e riceveranno un premio d'artista realizzato appositamente, oltre a beneficiare di una campagna di comunicazione presso i media nazionali e locali attraverso internet, i social network e i canali istituzionali degli enti promotori della conferenza. Il tour virtuale intende rimediare alla gravissima perdita dello studiolo commissionato sul finire degli anni 70 del 400 da Federico da Montefeltro per il suo palazzo di Gubbio e finito nel 1939 al Metropolitan Museum di New York, dove tuttora è meta di culto degli appassionati delle eccellenze di creazione banistica. Dal 2009, grazie a un progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, è possibile apprezzare visivamente la ricchezza tematica dell'originale, grazie alla copia realizzata dai banisti e gubbini. L'altra novità di giornata porta invece in Piazza Grande, dove da questa mattina è installata la nuova cancellata di chiusura della discesa cieca del Palazzo dei Consoli, realizzata a cura della ditta Vigami di Gubbio, in sostituzione di quella posizionata per la messa in sicurezza di Piazza Grande in occasione della festa dei Ceri nel maggio scorso. Il nuovo manufatto, realizzato in ferro pieno, con un catorcio di chiusura in ferro battuto, verniciata in polvere epossidica, cioè a forno, capace di resistere anche alle temperature più rigide e dalla corrosione atmosferica, ha sostituito quello di forme rispetto al progetto e respinto con contestazione alla ditta esecutrice, accettato provvisoriamente e momentaneamente solo per motivi legati al piano sicurezza della festa dei Ceri, in quanto il passaggio non poteva essere lasciato aperto. L'intervento ripristina una situazione risalente agli anni passati, quando esisteva un cancello di legno ed è inserito nell'ambito dei progetti di restauro, salvaguardia e valorizzazione del Palazzo dei Consoli, il tutto in attesa delle fasi progettuali ed esecutive per il finanziamento di un milione e mezzo stanziato dal Cipe legato al restauro e rifunzionalizzazione del Palazzo dei Consoli e del complesso monumentale di Piazza Grande, sulla base degli investimenti nazionali del Ministero Bene Culturali. Con finanziamenti legati anche alle aree interne, la progettualità complessiva riguarda la valorizzazione dell'intera area monumentale, compresso il Museo degli Antichi Umbri, previsto in via Lucarelli, con il trasferimento delle tavole ugubine e la ristrutturazione ed adeguamento degli arconi di via Baldassini, definendone natura e destinazione d'uso.